La metamorfosi del Pescara si è completata ieri a Perugia, la crisalide di Varese si è definitivamente trasformata in farfalla e la cura a Oddo funziona e come. Adesso i biancazzurri di diritto possono aspirare ad una insperata promozione in Serie A. Certo, ci sono da superare ancora due ostacoli e il primo si chiama Vicenza, ma la squadra vista all'opera ieri a Curi è competitiva e non poco. Oddo conferma il 4-2-3-1, da fiducia ancora una volta a Torreira e sarà ripagato ampiamente. Il primo tempo è praticamente un monologo pescarese. Dopo sette minuti la prima palla gol, Pasquato va alla conclusione della sinistra. Koprivez in qualche modo ci mette la manona, ma la palla finisce sul piede di Melchiorri che da posizione defilata calcia verso la porta, trovando però solo il palo esterno. Giustificato il rammarico del pescarese. Il Pescara mantiene l'iniziativa in mano. Poco dopo la mezz'ora punizione di Politano, Melchiorri spizza di testa e Bjarnason non ci arriva per un nulla con la porta quasi spalancata. Nemmeno il tempo per rammaricarsi che Melchiorri si libera per il tiro nell'area perugina, ma la conclusione è alta. Del Perugia nel primo tempo nessuna notizia dalle parti di Fiorillo. Guai però a distrarsi perché al primo tentativo che arriva al settimo della ripresa, gli uomini di Camplone passano in vantaggio. Punizione di Fossati, la difesa del pescare messa male sul secondo palo in posizione più che sospetta, spunta Goldaniga che di testa infila la porta. La rete Umbra è una mazzata sulla partita. Il Pescara accusa il colpo per un momento, tanto che concede il bis a Goldaniga che ancora di testa tenta la via della rete, ma la mira questa volta non è precisa e la palla si perde sul fondo con Melchiorri che fa la guardia sulla linea di porta. Il Pescara però reagisce al diciassettesimo, trova il gol del pari. Fa tutto Politano che va via sulla destra, entra in area Perugina e va al tiro di destro. Koprivez ci mette del suo e la palla termina in porta. Uno a uno e qualificazione che torna in discussione. I biancazzurri ci credono, Oddo carica i suoi. Al ventiduesimo caparbiazione di Melchiorri che sulla linea di fondo si libera, poi mette in mezzo una palla sulla quale Bjarnason non riesce a intervenire. Subito dopo ancora Politano dalla destra, ma Koprivez questa volta è pronto. Al ventottesimo l'episodio che decide partita e qualificazione. Sponda di Melchiorri in aria per la corrente Politano che viene abbattuto da Fossati. Rigore solare che si incarica di trasformare Bjarnason. La conclusione dell'islandese e di quelle che non lasciano scampo. Camplone gioca la carta Fabinho e questi si mette subito in mostra con una conclusione che fa correre un brivido ai tifosi pescaresi con la palla che sfiora l'incrocio dei pali e si perde gli un niente fuori. E' un segnale positivo, Fiorillo ci mette del suo in due occasioni respingendo conclusioni per Ugine e il risultato non cambia. Alla fine è festa grande dei tifosi biancazzurri. La semifinale è raggiunta. In vista c'è la doppia sfida con il Vicenza di Pasquale Marino. L'impresa non è impossibile.